Et in buona grazia, questo è il titolo del giallo storico scritto da Lida Coltelli ambientato nella Garfagnana del Cinquecento. La storia è avvincente. Il commissario estense Ludovico Ariosto, dopo un estenuante viaggio, arriva a Castelnuovo Garfagnana e si trova costretto, fin da subito, a districarsi tra i complicati equilibri di una terra di difficile governo, selvaggia infestata dai briganti. A pochi giorni dal suo arrivo un orrafo viene trovato in piccato, suicidio o delitto. Di questo libro e della sua storia l'autrice Lida Coltelli ha parlato nei giorni scorsi. Baglina di origine per questo è stata invitata dall'amministrazione comunale a presentare la sua opera proprio nella sua terra natale. A rendere il tutto più suggestivo la partecipazione della compagnia teatrale Il Circo e la Luna e quella del mangiante Mariano Coltelli. Il tutto sotto la conduzione della serata che è stata affidata all'editore Andrea Giannasi. In questo libro Ludovico Ariosto ha il ruolo del commissario, ha il ruolo del commissario che indaga, che indaga con l'aiuto del Baricello che era l'ufficiale dell'epoca e indaga sul, in questo caso, il suo primo omicidio, ma ce ne saranno altri. È un libro che, è un molto ben delineata, sono molto fedele al contesto storico del Cinquecento e della Castelnuovo del Cinquecento, con i suoi personaggi realmente anche esistiti, il Coyai, il Silici, Magnani, Simonelli e così via. Però c'è anche la fantasia e quindi è un giallo, un vero e proprio giallo.